Comincia stasera, comincia qui il campionato più atteso. Si accendono al Tardini le luci della stagione di Serie B, la novantunesima della storia, Parma-Pari. La velocità di Dennis Mann, che entra in arie mezza due, Mann passa, Mann! Mann! Un supergoal di Dennis Mann, il campionato di B, parte con questa perla, gol fantastico. Parte Antenucci, che tira in bocca al portiere. Adesso fanno ripetere il rigore. Fischia l'arbitro, riparte Antenucci, destro! E' il gol di Mirko Antenucci per l'1-1 del Bari all'undicesimo minuto. Ancora Foloruscio, l'apertura bella per che tira, vediamo se arriva, si ci riesce l'undici del Bari, adesso può attaccare a sinistra. L'area di rigore però non è occupata da compagni, si aspetta che tira, Foloruscio con il destro! Mamma mia! Foloruscio! Un gol pazzesco! Il Bari è avanti, 2-1 con Foloruscio! Il Parma ne ha avuto il cartellino per diversi anni, intanto Vázquez con il palo! Ecco il fischio! Parte Miaila! 2-2! Il Parma parla rumeno dopo Mann! Adesso Miaila! Basquez si abbassa per andare a prendere il pallone, lo lavora bene alla sua maniera, l'apertura sinistra per Osterwald che mette il cross, dentro a cercare Mann! con Juric Palleggio! È destro ravvicinato con la parata di Caprile! Finisce 2-2 dopo un primo tempo spettacolare, la gara che ha inaugurato il campionato di Serie B 21-22! Bellouuvovovovov praise! Create le tarda per il legor!